ciao ragazzi sono simone crispo bentornati in questo nuovo video del crispo sfida oggi ragazzi come avete letto dal titolo e dalla miniatura sfida in famiglia perché facciamo entrare appunto lo sfidante con calma con molta calma devo risparmiare le energie perché non ne ho tante quindi quanto stai lo scorso lo scorro lo ricordiamo come vedete in grafica 12 vittorie e due sconfitte quindi 13 vittorie stai eh Mirko con calma quello la seconda sfida la scegli sempre tu ah e non te la dico e non te la dico perché segreta ed è una sfida che un po' così un po' particolare io posso immaginare posso immaginare posso guarda veramente posso immaginare quindi non mi sorprendo non mi sorprendo come al solito il video si sviluppa in tre sfide ovvero la prima scelta da me sul mio punto di forza ovvero il tiro la seconda scelta dallo sfidante che ha detto che vuole tenerla come sorpresa giusto ovviamente ok e la terza invece un uno contro uno un po' particolare ok a me basta fare un punto poi non mi frega se perde l'importante è di essere nella sfida e non farlo 2 a 0 ok ok e invece io punterò adesso a fare il 2 a 0 perché come potete aver visto nei video precedenti non ci sono tanti 2 a 0 cioè di solito la sfida va sempre sull'1 a 1 non può essere l'ultima rinco che facciamo però a partire diciamo 2 0 non su 2 a 0 2 a 0 però c'è un portiere d'eccezione facciamo entrare subito il portiere del crispo sfida che d'eccezione alle guida e la vai un applauso bene già sai ci siamo detti una cosa rispogliato 1 50 euro 1 5 storie diciamo che qua 5 storie con tag che ha fatto bene meno di 50 euro però 50 euro su soldi guadagnati allora ragazzi innanzitutto prima cosa non me lo offendete più nei commenti poverino perché sennò lui non viene mai a giocare anche perché andate a vedere la partita del sito napoli ha fatto le parate assurdo il video è uscito mercoledì sul canale sempre siete persi andatelo a vedere qui ospite d'eccezione ragazzi lui invece è sapete che il nostro simone crispo cugino di più scheme allora ragazzi se non lo conoscete il blindato ovviamente se non lo siete iscrivetevi al vostro canale mi raccomando non superare al simone crispo parto io con la prima sfida oggi in cabina di regia c'è un mio amico speciale alex sui social cioè ovvero sui social mio tiktok si chiama alex e ovviamente non può mancare eccomi ciao andrea perché ti fiorgi per alle guide mamma mia bene va bene va bene va bene questo palo mi piace questo palo fermo di morano forza forza sbagliate anche notte vai la vedi di sinistro non posso dire portiere pagato in contanti la simbola e crespo sfida belle su sinistra dare l'opportunità comprato questo tiro in realtà sto tirando di sinistro perché mi fa un po male la caviglia settimana dei play off importantissima vabbè scaricata la telecronica devo fare due per pareggiare non è impossibile però con il mio piede non è possibile senza che sente mirko secondo voi quanti tiri di punta fa su 5 ma sarebbe il più scarso di youtuber lì la parata di cg buffon eccolo sceglie con i mandarini tra l'altro oddio dai 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 questa poteva prenderla meglio è il divenziatore che si concentra nooo godo perché ho preso anche io un palo e una traccia cioè due pali quindi godo allora è come ho detto io è il più scarso del youtuber lì ecco con gli occhiali da sole dai che ce la facciamo posso dire posso dire grande ho tirato bene hai tirato bene se più alla porta erano tutti i culi lo posso dire ha tirato a livello di ila non è uno complimento chissi simon lo posso dire ha tirato molto meglio di altri 2 a 1 e 2 a 1 ma va a tirare va ecco primo tiro 3 2 grande tiro un po' difficile gli occhi di mare dai che cacchia che cacchia portiere sapete che Simone e Crispo ha comprato il portiere alle guida gli offre una pizza e una margherita dopo ecco che è fatto il record come 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 ricarica subito mamma mia si è caricato abbastanza guarda come si stiava il pallone guarda lo ha spostato alto fallo per ila e mi ha fatto la dan no 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 potevo fare 5 su 5 se non è mai successo però sapete che ma se faccio 5 su 5 pareggio vinci cioè pareggi però te la do vinta vai va bene vai è andata alle qui mi raccomando eh ecco picco la scommessa è andata è andata è andata dai che Topo paga la pizza da 50 calor e la ci sta mettendo un po' troppa rabbia mettiti gli occhiali dal sole se no non prendi il sole eh che non riesce a tirare il pallone è la sfortuna questa però è la sfortuna è la sfortuna carina proprio è bella la bella ma chi l'hai spenuto l'handa di una capa l'hai spiazzato mettiti gli occhiali dal sole perché questa la devi fare alla vabbè ho fatto due gol totale sì tu ne hai fatti sei io ne ho fatti cinque totali non è vero sei sei quattro e due sei vabbè la prima è decimo come sempre sei due sei due Milchetto quindi prima sfida terminata sei due allora quindi ora questa è la sfida che vincerò stop e tiro ma il tiro è particolare perché bisogna tirare solo con la pontazza a sfondare il pallone e il portiere io non mi sono neanche tagliato le unghie quindi sicuro mi farà male la pontazza cinque tiri alternati vediamo chi porta a casa questa sfida andiamo oh niente di meno c'è la piazza di punta Mirko capito cioè non è che tira a caso lui la piazza decide l'angolo eccolo eccolo con doppia punta eccolo 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 la puntazza una zero riprendimi dai che ci sta riprendimi ora cerco di renderla speciale questa puntazza va te lascio vedere la puntazza speciale ecco la puntazza di questa puntazza Simone e Crispo oddio lo sciupa femmine grande la puntazza bravo bravo occhi di mare vabbè fai tutti così allora vabbè però fa male lo sai oh troppo oh sapete che Simone e Crispo me lo devo portare al lavoro ah mi sta scendendo oh quello è piuttosto quello è piuttosto godo di sinistro vai a dormire brava di vantaggio ha fatto malissimo questo questa è la tosto vai a giocare col pezzito segnale segnale non ci credo replicalo vai a volo da fermo eh no che tu hai fatto da fermo puntazza nel palo vai eh assurdo ma secondo me la stava passando indietro e aveva sbagliato lo stop capi e ci è uscito vabbè vabbè ti ho comprato ma è una volta che faccio un gol porca miseria ma no pura lui secondo me ti ho comprato il calcio è un affare godo nooo ma quindi ma quindi se segno se segni hai vinto vabbè se non segni posso pareggiare però vabbè aspetta non l'ho fatto e tirare deve andare nella casa a riposo dopo vai alle qui fammi pareggiare alle qui ma chissà lo sapo questa è la mia sfida 1 a 1 crisi ti aspetto in finale ti aspetto ma vuoi tirare vuoi tirare che tira a fare che tira a fare che tira a fare perché ho in mente una cosa ho in mente un tiro di punta sapete che il microfono che c'ha il cameraman ecco questo è perché è un po' speciale vediamolo dai niente niente l'altanto l'aveva persa ha fatto uscire non fa niente 1 a 1 guarda perché mi conosce il portiere si muova solo che è ferma va eh Mir che ma tu mi hai tirato con la sulla punta ma quando l'hai ho tirato di punta vabbè ci vediamo all'1 contro 1 di punta 1 contro 1 un po' particolare un po' particolare un pazzo verde con quella Mir mi preoccupa ho pagato la figura in merda ti capisco ma non dire così non dire così a me non ti fa sentire almeno eh lo so vabbè io l'ho detto pure nel mio canale non ti preoccupa non si pella mamma mia te la sassi partiamo Simone Crispo subito in difesa Mirkoff grande difesa Simone Crispo grande gol scattaccio eccezionale forza 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 è Mirkoff 93 il passaggio eccezionale scala cerca di scattarlo ma non ci riesce ecco Mirkoff 83 93 attenzione grande tirlo attenzione Mirkoff la passa Simone attenzione in attacco scattaggio eccezionale di Simone oh rifletta fallo è la lunga va bene va bene è la lunga Simone Crispo in difesa per la prima volta nella youtuber league attenzione ecco Mirkoff ah c'è Simone Crispo che ferma la palla sul tiro di Mirko grazie ci lascia perché deve andare a lavorare lui oltre a fare YouTube è un ragazzo onestissimo lavoro al bar per il cameriere buon lavoro mi dispiace di non fare più la telecronaca vabbè altri acquari si sostituiranno in modo carico buon lavoro mi raccomando buon lavoro buon lavoro la panza la panza la panza vai 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 attenzione ricominciamo palla Mirko per sicure Crispo Crispo torta palla lo punta azione inciampa sul pallone temporeggia temporeggia Mirko ottima difesa dentro la giocata si sta atteggiando si sta atteggiando concentrazione adesso palla a Mirko che attacca senta subito ti concludo lo sapevo si attenzioni si ha vinto ha vinto lo punta doppio passo doppio passo sposta la palla tunnel pancino si va alla travessa non è possibile è un pezzone la fatta al cugino la fatta al cugino la fatta è un po' come la vinto guarda dj tenebrio se l'entrata quanto stai? 2 a 0 devo farlo lo faccio va bene attenzione Mirko può fare almeno uno lo punta lo supera col tacco Ale queste 5 storie mi dispiace ti ho perso purtroppo ragazzi Ale però ho vinto i 50 però posso dire no perchè lui era andato a giocarsela per le 5 storie quindi non è che mi ho vinto io ti do i 50 ci ricordiamo per il prossimo crispa sfida questa cosa va bene ci mangiamo una bella pizza ma non lo ricordo mi ricorderò score quanto? score quindi aumentiamo in positivo quindi 13 vittorie e 2 sconfitte contro Fratino e Sergei vi ricordo inoltre che ho detto anche a Sergei che vorrei a fine di tutto organizzare un mini tra virgolette torneo tra tutti quelli che vincono quelli che perdono no quelli che perdono oppure con quelli che acchiappano il tunnel anche anche quelli che acchiappano il tunnel al momento è solo Mirko se non lo siete iscrivetevi al canale lasciate tanti bei mi piace ma soprattutto ragazzi facciamo una cosa arriviamo a 5000 mi piace se vogliamo aprire un canale su padel di tiktok a dalle guida è molto bravo quindi ragazzi 5000 mi piace se arrivano lo apriamo per ufficiale un bel canale tiktok ci affacciamo anche sul padel mi insegni? ti insegni il messo del padel ragazzi va bene va bene quindi ragazzi abbiamo terminato lasciate tanti bei mi piace andatemi a seguire se non lo siete siamo vicini ai 100 mila Mirko già abbiamo pensato allo special e noi ci rivediamo in un prossimo video vieni quale ciao a you ciao 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 ciao